Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 15 agosto. Ariete, in amore sono favorite le nuove conoscenze da cui possono scaturire dei flirt molto intensi, anche se di breve durata. Oggi potrete sfoggiare il vostro ottimismo. Toro, una luna che rende questa giornata intensa per l'amore. Nelle coppie c'è passione e i nuovi incontri sono fortunati. Sarà un giorno ideale per rivelare un sentimento. Gemelli, la luna è ambigua per l'amore. Evitate di mettervi in situazioni poco chiare. State vivendo un periodo delicato. Con gli amici e la famiglia siete più sicuri. Cancro, in questo ferragosto dovete solo pensare a riposo, perché avete accumulato tanto stress ed è il momento di ricaricare le batterie. Concedetevi un piccolo lusso. Leone, la luna rende la vita sentimentale intensa. Sono possibili nuove avventure cariche di passione all'insegna della leggerezza. In serata avrete bisogno di tranquillità. Vergine, la luna nella prima parte della giornata vi chiede di prestare attenzione alle esigenze dei vostri cari. Poi penserete a divertirvi. La serata promette davvero molto. Bilancia, in famiglia troverete l'ambiente ideale per rilassarvi, quindi evitate di prendere impegni che vi portano troppo lontano da casa. Cercate di non credere alle facili promesse. In amore, scorpione, avrete voglia di concedervi qualche piccolo lusso, quindi non baderete a spese. Pur di vivere una giornata all'insegna del benessere, in amore avrete voglia di sorridere. Sagittario, bella luna nel vostro segno che vi rende radiosi, grazie anche alla vicinanza di persone che sono in grado di alietare la vostra giornata. Oggi la fortuna vi sorriderà. Capricorno, è una luna molto bella quella odierna che vi rende più sensibili e desiderosi di trascorrere dei momenti con i vostri cari. In amore sarete più passionali. Acquario, godetevi questa luna che promette amore. È un incontro interessante per le persone sole. Siete molto sicuri del vostro fascino. Solo in casa c'è qualche imprevisto. Pesci, mantenete la calma di fronte a certi atteggiamenti provocatori del partner. Se non volete accendere una discussione infinita, anche in famiglia, non forzate la mano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.